Ciao a tutti, il Movimento 5 Stelle presenta una proposta di legge a mia prima firma che ha un obiettivo molto importante, far sì che nelle liste elettorali per elezioni che riguardano comuni e regioni ci siano liste pulite. Cosa vuol dire? Vuol dire che i condannati non possono più entrare nelle istituzioni anche se sono stati condannati soltanto in primo grado, quindi anche condannati in via non definitiva. Questo perché riteniamo che un condannato anche in primo grado è giusto che per il periodo necessario ad accertare la verità non si candidi a entrare nelle istituzioni e negli enti locali. L'altro aspetto molto importante di questa proposta di legge è far sì che il cittadino sia informato quando va a dare il suo voto, perché il suo voto deve essere un voto consapevole. Per cui se per i condannati, anche in via non definitiva, abbiamo stabilito che non possono candidarsi, per i rinviati a giudizio, per reati particolarmente importanti, non possiamo impedirli per legge di candidarsi. Sono stati solo rinviati a giudizio, non sono stati ancora condannati, ma è giusto che il cittadino sappia che quella persona è stata rinviata a giudizio, per cui la proposta di legge prevede che all'interno della lista elettorale, nel classico manifesto, ci sia scritto che quella persona che si candida a entrare nelle istituzioni è stata già rinviata a giudizio con l'indicazione anche del reato per cui è stata rinviata a giudizio. Per noi è fondamentale dare un messaggio chiaro, e cioè che l'onestà è fondamentale e che è il punto di partenza per qualsiasi democrazia, sia a livello nazionale sia a livello locale. Leggete attentamente la nostra proposta, dateci i consigli e i suggerimenti che ritenete che per noi sono sempre molto importanti e ci vediamo sull'ex.